Il comitato di oggi che cosa aggiunge? Il ministro Salvini parla di un piano di unità nazionale. Che cosa avete compreso voi di questo? Come si articolerà e cosa cambia? Il ministro per la verità ha solamente ascoltato. In comitato ha preso appunti, ha detto che ha trovato il comitato molto utile. Nell'ordine ha parlato a lungo il prefetto, poi ha parlato il procuratore, poi ho parlato io, poi ha parlato brevemente il questuro, un po' il comandante pronunciare Carabinieri e il comandante pronunciare la Guardia di Finanza, il ministro ha detto che ha preso appunti, si è complimentato per la vicenda dei depositi dei motorini, che credo sia una cosa davvero importante, un risultato che anche noi insieme alla prefettura abbiamo fortemente voluto. Poi non so se volete sapere quello che abbiamo detto noi. Ma come si risolve questa cosa dei motorini? Perché ancora allo Stato non c'era... No, no, i motorini si è sbloccati, quindi le forze di polizia sono in condizioni già nei prossimi giorni, ma questo è il risultato della città, e attenzione non è che ce l'ha regalato qualcuno da Roma, è il risultato della città dove si potranno arrivare anche a fare interventi massicci, che questo è fondamentale per prevenire ipotesi fatti criminosi gravi e anche il cosiddetto fenomeno dell'estese, quindi credo che sia un risultato molto importante, così come abbiamo, se posso aggiungere, sottolineato al Ministro che Napoli in questo momento, grazie al lavoro soprattutto della città, ha in campo poco meno di due miliardi di opere per terra, in questo momento abbiamo circa 350 cantieri in movimento e altri si apriranno, e quindi da questo punto di vista noi ci auguriamo che ci sia il massimo di attenzione, perché l'episodio come quello di Porta Capuana, dove tra l'altro sono anche intervenuto personalmente, lo stesso prefetto me ne ha dato atto, non si verificano più. Ho anche voluto sottolineare che la reazione di maturità culturale e civica della città dopo il terribile episodio di Noemi è stato molto importante, ho ricordato Piazza Nazionale e la manifestazione, ho ricordato Via Mario Fiore al Santo Bono, anche le scolaresche di stamattina a San Giovanni, insomma una città che da un punto di vista culturale, economico, di riscatto, di reazione morale e di mani pulite anche di questa amministrazione, è un fatto che ha una valenza nazionale, quindi da questo punto di vista credo che abbiamo dato anche dimostrazione, e questo l'ho voluto sottolineare io e non solo io, di un eccellente livello di cooperazione istituzionale in città, quindi questo è quello che è venuto fuori dal Comitato, il Ministro ha ascoltato e quindi poi vedremo quello che accade, non ci sono stati da questo punto di vista impegni concreti o valutazioni, è stato un ascolto dei componenti del Comitato. Anzi ho voluto anche sottolineare, se posso dirvi anche questo dato, di come abbiamo molto lavorato in questi anni sulle ordinanze all'interno del Comitato, che è un tema di cui si parla molto nel Paese, la direttiva Salvini, le ordinanze di altri prefetti, qua abbiamo detto che invece si fa un lavoro molto cittadino, in cui si è lavorato insieme le forze di polizia, il sindaco, il prefetto, insomma c'è una tenuta istituzionale locale molto forte, c'è il ringraziamento per quello che si è fatto in questi tempi, mi sentirei di farlo, ai cittadini napoletani nella loro stragrande maggioranza sono persone per bene, alla nostra amministrazione, alle forze di polizia e ai magistrati autoctoni, cioè quelli che qua hanno lavorato senza aver avuto significativi rinforzi di questi tempi. Anzi ho voluto anche ricordare al Signor Ministro che negli ultimi otto anni ho il 50% in meno del personale rispetto a chi mi aveva preceduto, un miliardo e mezzo di euro di tagli e io ho ricordato che una cosa buona la possono fare subito al Ministero dell'Interno il 28 maggio perché dovranno darci il via libera alle 2000 assunzioni che significa poliziotti municipali, maestri di strada, educatori, operatori sociali, quindi se il 28 maggio avremo il via libera da luglio noi potremmo avere delle forze in campo che vanno anche a compensare la quota 100 eccetera eccetera. E poi ho ricordato anche il fatto delle vele che è un altro risultato voglio dire ottenuto tutto dalla città perché sennò qua di questi tempi si prendono altri meriti che sinceramente non hanno nulla fatto in queste vicende. Intanto mentre la Farnesina stanzia 20 milioni di euro per i rimpatri forzati l'Alta Corte di Giustizia dell'UE dice una cosa importante che non si possono rimpatriare i soggetti che andrebbero incontro a un futuro difficile. Non perché sono stato magistrato, anche perché non sempre mi sono trovato d'accordo con i magistrati, ma in questo caso sono in linea con la decisione giurisprudenziale europea. Il rimpatri è tutta propaganda. Il Messer Interno e questo governo sanno che ci vorranno circa un secolo per fare i rimpatri. Se guardiamo i numeri sono irrisori, invece si stanno violando diritti individuali, diritti umani, convenzioni internazionali, giurisprudenza comunitaria, costituzioni. Io mi sono permesso anche di sottolineare perché di questi tempi ho sentito su Napoli delle parole ingenerose che non fanno onore a questa città, Napoli come Afghanistan, Napoli come Medioevo. La vera questione nazionale, ce lo dimostrano le cronache di questi giorni, sono corruzioni e mafie. Non sono certo le donne e i bambini che in mezzo al mare cercano una speranza per bere, per mangiare e per vivere. Quella è una operazione di strazione di massa per fare propaganda.